Il porticciolo De Benedetti di Asso Nautica La Spezia è dotato di strutture efficienti e sempre più green. Per queste sue qualità nei giorni scorsi è stato premiato a Trieste nell'ambito della Barcolana in Camera di Commercio Venezia Giulia con un prestigioso riconoscimento, la bandiera Blu Marina High World. L'iniziativa è di Asso Nautica Italiana e di Asso Nat con il supporto tecnico del Rina. E qui oggi ospite alla Spezia l'ideatore e coordinatore di questo progetto. Ne parliamo con lui. Blu Marina High World è un'iniziativa che vuole sensibilizzare e guidare tutti i nostri marina, porticcioli turistici, a prodi turistici in un processo di crescita sugli aspetti di accoglienza turistica, sicurezza, innovazione e sostenibilità proprio perché possano essere centri di eccellenza, ben integrati al tessuto socio-economico di un territorio, fare da volano alla comunità che vi ruota attorno e quindi anche riuscire a raccontare e valorizzare il territorio circostante. La seconda edizione del premio, quella di quest'anno, ha avuto un successo superiore alle aspettative e su 100 adesioni soltanto 34 marine sono state prescelte. Sulla base di quali criteri? Sì, è vero, i risultati sono straordinari. Abbiamo triplicato le adesioni. I criteri sono definiti dal RINA, che è l'ente tecnico dei Blue Marine Awards. Di fatto vengono fotografati circa 100 elementi che ruotano attorno ai temi di accoglienza turistica, sicurezza, innovazione e sostenibilità. Io devo dire, stamattina ho fatto due passi lungo i vostri pontili galleggianti, ho trovato una struttura all'avanguardia, attenta a tanti anche piccoli particolari, dalla gestione degli oli reflui piuttosto che percorsi di accessibilità per le persone diversamente abili e quindi un tutt'uno che fa sì che la marina possa essere davvero una porta d'ingresso al turismo esperienziale. Per noi è un onore, ma anche il premio stesso onora l'impegno verso l'eccellenza, un'eccellenza verso le strutture della nautica da di porto, che vanno in direzione, proprio ripeto, dell'eccellenza, nei riguardi della sostenibilità, della sicurezza, dell'accoglienza turistica. Tratta di un'iniziativa, questa molto importante, che premia e soprattutto promuove le attività nautiche in Italia e in questo contesto la sonautica della Spezia ha ricevuto una dichiarazione, diciamo così, di capacità e di qualità che sicuramente aiuta ancor più ad amare questa catenaria.